Sì, le ragioni dell'incontro, la ragione oggettiva e potete trarla da voi stessi la risposta, la ragione dell'incontro è di mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, se mi permettete anche coraggiosa, perché sarà una manovra accompagnata da riforme strutturali, da riforme in cui noi riponiamo molta fiducia, perché siamo convinti che la vera crescita, la leva per la crescita economica e lo sviluppo sociale sarà assicurata da queste riforme strutturali che coinvolgono il codice degli appalti, stiamo lavorando allacremente a questo e a settembre avremo una proposta di riforma seria che possa finalmente sbloccare sul piano normativo la disciplina degli appalti e favorire quindi un quadro di maggior certezza giuridica per poter rilanciare gli appalti, stiamo lavorando anche alla semplificazione normativa e burocratica, personalmente ritengo anche per la mia esperienza giuridica che questo Paese sia imbrigliato dai vincoli, dai lacci e dai lacciuoli, se riuscissimo a operare in termini di semplificazione burocratica offriremo secondo me un potentissimo volano per la crescita economica e lo sviluppo sociale, ancora anticorruzione, certo perché all'estero dovete pensare che quando incontro i miei omologhi e quando incontro vari esponenti della comunità internazionale una delle attenzioni maggiori è dedicata proprio alla corruzione, al tasso di corruzione così come emerge nelle classifiche internazionali, voi sapete Transparency, International e via correndo, anche lì quindi con le misure anticorruzione che porteremo a settembre confidiamo di costruire un ulteriore tassello che accompagnerà una efficace manovra economica, non solo accelerazione dei processi, soprattutto civili, lo dico da giurista, è inaccettabile, oltre che da privato cittadino, è inaccettabile che il sistema giustizia offra delle risposte che arrivano dopo anni, non solo, spesso trascura che il problema non è solo la sentenza, il problema è il recupero, ad esempio del credito, della pretesa economica, la realizzazione della pretesa economica, quindi c'è anche da riformare il processo esecutivo, dobbiamo lavorare a questo, stiamo lavorando all'alcremente anche a questo, ci sono ancora digitalizzazioni dei servizi pubblici, se riuscissimo, come stiamo lavorando, a realizzare in brevi tempi le piattaforme digitali che consentiranno la interconnessione tra le varie pubbliche amministrazioni, noi offriremo un meraviglioso strumento ai privati cittadini, agli operatori economici per poter in tempo molto più breve operare a tutti i livelli e anche alle pubbliche amministrazioni, ovviamente per svolgere e realizzare i procedenti amministrativi, ovviamente un quadro, un tassello importante che sono anche poi punti particolarmente qualificanti per quanto riguarda il programma di governo e quindi l'aspetto politico, sono anche riforma fiscale e reddito di cittadinanza, quindi abbiamo tanto da discutere, se lei mi permette, lei diceva perché fate tutte queste riunioni, facciamo tutte queste riunioni perché cerchiamo di accompagnare la manovra economica, che in sé è già una manovra ovviamente che richiede una qualche attenzione, di agire con grano salis, la accompagniamo a tutte queste riforme, il nostro pacchetto quindi sarà un pacchetto integrale, ovviamente questo non significa, perché dobbiamo essere realistici, che a settembre realizzeremo tutte queste riforme, però avremo questi progetti di riforma, alcuni da realizzare immediatamente, alcuni da avviare e realizzare progressivamente. Grazie.